Il diploma di maturità può bastare per trovare la propria dimensione nel mondo del lavoro, specie sia associata a una formazione supplementare mirata che non deve essere necessariamente di tipo accademico, la pensano così molti di 1550 giovani studenti della scuola secondaria di primo grado. Tra gli studenti che dovranno scegliere la scuola superiore, ben 8 su 10 si discostano infatti dal luogo comune che vede l'università come l'unica strada in grado di garantire un futuro soddisfacente, a cui rimane legato il 19%. La nuova generazione, la cosiddetta Alfa, sembra dunque differenziarsi da quella precedente per una visione post-diploma diversa.